Solo l'inizio. Pronti? Uno, due. Uno, due. L'O, 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 L'O. La tier, encore une a-route à l'option. Uno, due. Uno, due. L'O, 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 L'O. Bambam 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 Crimin di Ok, va bene? Adesso proviamo 39 39 Uno, due Ok, ancora una volta Inflaute un po' più forte 1, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 2 Uno, 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 due Inflaute un po' più forte Ok, tutti i 79 Uno, due Ok, adesso lo vogliamo tutto da capo Tutti le quali, tutti le Alla mia formula Dove 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 Pagli 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.